Ciao a tutti, siamo con Corrado e concludiamo la nostra giornata a Pila sul percorso DH. Corrado, cosa si inizia di questo tracciato? Allora, come vedete ci siamo tagliati, siamo in peste DH, bici DH, casco di protezioni. Andiamo a fare, presentiamo il percorso, un po' di termino di un po' di acqua di acqua. Questa è un po' di acqua di acqua. Stiamo facendo un primo giro, proprio per guardarsi un attimo, la variante della XS. Ci sono tre traiettorie qua, la più, diciamo, ripilina più importante è questa qua sulla destra. C'è non da droppare ma da accompagnare la 12 giù. C'è un po' di acqua. 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 Grazie a tutti. Andiamo andiamo. Sì sì. Ho fatto questa tutta in discesa. Come avete appena potuto vedere il tratto appena passato è stato abbastanza tecnico. Ripidoni non banali. Comunque interpretabili. Due o tre linee per ogni passaggio. Da quella un po' più chicna alla pro. Sicuramente è un percorso per chi comunque si deviacca e mastica parecchia. Quattro. 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 Sì Sì Sì